Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. In A15 tratto chiuso per incendio tra Ulla e l'allacciamento con l'A12 in direzione La Spezia. Per lo stesso motivo in direzione Parma ci sono invece 3 km di coda. In A12 attenzione a un veicolo fermo o in avaria in galleria sulla corsia di marcia tra la barriera di Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. Per quanto riguarda le statali sull'Aurelia lavori circa 2 km prima del bivio per Venturina in direzione nord. Infine per gli aerei il volo British Airways da Londra atteso a Firenze alle 14.05 atterrerà alle 15.09. Ripartenza delle 14.45 prevista alle 15.35. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!